Sono già caldo! Fenone! Oh! Sono morti in tutto il fenone! E' un'altra mano qui! Subito! Questa zona è sicura. Continuate così, ragazzi. Possiamo farcela. Affermativo. E' tutto! Ce l'avete quasi fatta. Rileviamo pochi bio-segnali. Rimando le coordinate sulla mappa. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Eh, sono in un brutto casino! Addosso! Dica pure, capo! Bella! Ti stavo aspettando. Roger. Eh, sono in un brutto casino! Ha intenzione di darmi ordini? Trenta secondi al tramonto. Bette! Bella storia! Sono già caldo! Che mi dice? Facciamo le cose per bene, ragazzi. Certo, signore. Pronto a scatenare l'inferno! Dica! Tenete gli occhi aperti. Ce ne sono altri là fuori. Tanto, paga lei! La sentiamo! Dica pure, capo! Pronto a scatenare l'inferno! Certo! No, 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 no! Subito! Sei scatenare! Wow! Si sono incazzati di brutto. Forse dovremmo aspettare che faccia giorno. Jim, ce l'hai fatta. Sapevo che non ci avresti delusi. Ora devo portare il mio popolo in un posto sicuro. Non sarà facile, tesoro. L'intero settore pullula di Zerg. Deve pure esserci un posto che gli alieni non hanno toccato. Un paradiso inesplorato che aspetta solo noi. Un paradiso inesplorato che aspetta solo noi. Grazie per esservi collegati. La nostra Kate Lockwell con un resoconto dal vivo dalla nave di rifugiati Skinner di Seconda in orbita attorno al pianeta Meinloth. Donnie, il numero delle vittime è in forte aumento. Enormi flotte di rifugiati come questa stanno tentando di raggiungere la salvezza dei pianeti centrali. Molte non ce la faranno. Sono a corto di cibo, acqua e speranze. Kate, discuteremo di come il dominio salverà quei mondi al momento opportuno. Si parla molto di salvataggio tra i rifugiati. Le cui speranze, però, si fondano su gruppi paramilitari e ribelli come quello di Raynor, con i suoi attrezzi. Ottimo servizio, Kate. Dal vivo, da una nave di rifugiati sopra Meinloth, dove tutti aspettano assiosamente il ritorno del dominio. Seguirà un servizio di Vermillion. I rifugiati sono davvero una nostra responsabilità? Sei l'immagine della compassione, donna.